Avvocato Ghiglione, l'M&A si è dimostrato uno dei settori trainanti del mercato italiano, ma come fa uno studio come Ale e Nenoveri a rimanere competitivo sul mercato? Credo che sia necessario un buon mix di competenze tecniche e quelle sono assodate. E poi credo sia molto importante essere in grado di intercettare operazioni cross-border, dove sicuramente uno studio internazionale può riuscire meglio di altri, ma allo stesso tempo dimostrare di essere molto credibili anche sul mercato domestico. Ecco, se riesci a fare entrambe le cose, quindi se riesci a dimostrare che nonostante l'impronta internazionale sei un concorrente credibile sul mercato domestico e poi ti avvali anche di un network, di una sigla importante per intercettare il lavoro internazionale, penso che sia il top che uno possa riuscire a fare. Grazie.